Giallo attorno al ferimento di un uomo, 37enne pregiudicato di Giffoni Vallepiana, che la scorsa notte è giunto all'ospedale di Salerno con una evidente ferita alla gamba provocata da un proiettile. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battivaglia, diretti dal capitano Samuele Bileti, che stanno tentando di ricostruire la dinamica dell'episodio. L'uomo che alle spalle dei precedenti ha raccontato ai medici del pronto soccorso di essersi ferito accidentalmente, mentre maneggiava una pistola. Fortunatamente non è in pericolo di vita. L'episodio è stato comunque segnalato alle forze dell'ordine, che ora sono al lavoro per verificare la versione fornita dall'uomo. La dinamica di percorrenza del foro entrato dalla parte alta della gamba renderebbe compatibile la versione fornita dall'uomo con l'accaduto, ma sono in corso ulteriori accertamenti per far luce sulla vicenda. Indagini in corso anche sulla pistola con la quale si farebbe ferito il 37enne, che sarebbe detenuta illegalmente.